Amici di Medinvino, ciao, benvenuti. Siamo con l'amico Filo per questo meraviglioso Primozic che è un 2009, un Merlot 100% Collio, Friuli, 13 gradi, degustiamolo. Andiamo a vedere che bel colore che ha questo merlot, è un rosso rubino, ha dei riflessi belli violaci, un colobino che ha della gioventù diciamo, c'è una buona consistenza, un bicchiere a 13 gradi si vedono e ci si aspettano grandi cose, grandi cose, vediamole, sentiamole, direi quella varietale del merlot e robaceo, intenso, molto intenso, bello di persistenza, pezzi che ricordano il pepe e cos'altro, anche i chiodi di bello secco, caldo, insomma, è un vino che si fa apprezzare, molto morbido, i vini rossi del Collio sono di solito abbastanza morbidi, pronti, equilibrati, diciamo che è un vino che è molto, è già in perfetta forma, insomma, è da bere, lo berrei a 12-14 gradi, tu che sei il goloso della compagnia, cosa ci fai mangiare? allora, qua metterei una bellissimo primo, una tagliatella al ragù bianco, un bel ragù bianco, fatto come si deve, amici di minimo, cin, ciao! ottimo, ottimo, stiamo bevendo, ragazzi sono le 11 di mattina e stiamo bevendo, ma se la roba è buona, come fai non bere? è buonissimo, di giù!